Salve, sono Paolo Roatta di Archimedia. Archimedia è una start-up che ha quasi un anno di vita e ha lo scopo di trovare il modello della televisione che verrà. Infatti il sottotitolo è Beyond Television. Una cosa che volevo fare da molto tempo era quella di trovare, contribuire al cambiamento del paradigma della televisione in prima persona. E quindi c'è stata l'occasione e siamo partiti con Archimedia. Perché Mind the Bridge è una cosa importante per Archimedia? Perché intanto nei vari incontri che ho avuto fino a oggi credo siano stati tre o quattro, ho conosciuto delle persone di livello eccezionale e poi perché al di là dell'ispirazione che ogni volta questi incontri riescono a instillare, ci sono sempre delle occasioni proprio utili di business, di situazioni che nascono. Quindi al di là dell'aspetto dell'ispirazione, della passione, di riconoscere persone, di trovare anche dell'opportunità di scambio, c'è anche un aspetto economico non da poco perché non è facile oggi in Italia, lo sappiamo tutti, fare fundraising. Quindi quando ti trovi una situazione ideale in cui la gente viene da te ad ascoltarti e tu li puoi fornire, hai le loro orecchie tese che ti ascoltano, li puoi fornire tutti gli elementi che hai sempre voluto dare per far sì che la gente possa mettere un chip sulla tua avventura, allora è una situazione perfetta.